Il mio ringraziamento a tutti voi per essere qui, abbiamo l'onore di avere la professoressa Margherita Hack che sarà intervistata dal direttore del mattino Marmonestie e poi se la professoressa desidererà perché ha fatto un viaggio da Trieste ed è stata molto gentile e disponibile a raggiungerci qui al Padova Pride Village, ovviamente è la professoressa Margherita Hack che non ha bisogno di presentazioni e siamo veramente onorati di averla qui perché è una delle poche voci nel nostro paese a difendere il principio della laicità dello Stato e soprattutto a difendere il principio di uguaglianza e dei diritti civili in questo paese, un paese a libertà limitata lo sappiamo ma personaggi, persone della sua caratura intellettuale scientifica hanno dato molto e continueranno a dare molto e speriamo che altri intellettuali levino la loro voce proprio per ripristinare una compiuta democrazia in questo paese che non significa solo libertà di informazione, pluralismo ma anche riconoscimento dei diritti a tutte le persone che oggi sono escluse appunto dal campo e dall'alveo dei diritti in questo paese e proprio per questa ragione la ringraziamo ancora una volta per essere qui stasera. Buon dibattito e buon incontro a tutti, più tardi se ci sarà il tempo faremo anche un passaggio di domande dal pubblico. Grazie ancora, buon dibattito.